Andiamo, 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 vai, vai, divertiamoci, pushiamo, uccidiamo, moriamo e rinasciamo Grazie, penso che non abbiamo nessuno dietro, sì, abbiamo tre dietro Ok, sono dentro, bersagli disponibili, al lavoro, io l'ho trovata Aspettiamo che arrivi a loro, vediamo Eccoli Craccato uno, sono quasi senza colpi Tienili occupati, tienili occupati, tienili occupati Uno a terra, sono con la pistola Tim mi ha annientato, Tim mi ha annientato No, sei morto No, sei morto No Qual è il codice del bunker? Allora, nove, sette, due Sei, quattro, uno Sei, quattro, uno Tre, otto Tre, otto Ah, eccolo là Vuoi, la prima volta che ho ucciso uno con... Mo ti rianimiamo Uno con la pistola La prima volta, la prima volta Corri Corri, 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 corri Su che dobbiamo rianimare, dai, dai Guarda quanti soldi È Natale, è Natale Uh, origin, origin super pompato Oh, sì Sensore di prossimità Battito cardiaco è tutto Questo non si apre, è chiusa Quanti soldi abbiamo? Vado a rianimarlo Andiamo No, aspetta L'arma primaria mi fa schifo Che arma primaria c'ho? Vapò, prendo, prendo questa Ok, fatto Sì, sì Pinghiamo, pinghiamo Non c'è nessuno Ok Lo rianimo io Lo rianimo io Tu prendi il loadout Vai, fatto Lancio di equipaggiamento alleato in arrivo Oh, non è che mi cade in testa Ma la miseria Dov'è, dov'è? Qua, qua, qua Allora mitraglietta, abbiamo detto Vado di mitraglietta anch'io Cattivo, cattivo Ok, preso Via Ah, è vero C'ho un M13 Geko qua Che bello La mimetica Geko C'avevo messa Ok Solo che non ho Non ho colpo di fucili d'assalto Ragazzi Voi c'avete qualcosa? Vieni qua, Peppe Ok Io sono full Perfetto Va benissimo così Ne ho 60-90 adesso Ok, aspetta Ne do 30 Vieni, vieni Facciamo 120 a testa Ah, va bene Sì Oh Va bene qua L'altra È fattibile È dentro la casettina Non vedo nessuno sui tetti Potremmo Sì Sì Va bene, quella lì è sempre Abbiamo il negozio sotto Prendo un UAV Aspetta Lo lancio Sì Io sono qua La cassa Lancio Eccoli qua Stanno qua In movimento Proprio sulla nostra Si stanno Ok Dove stanno andando? Si stanno avvicinando ragazzi Là dove sta la cassa Sì 35 Mi hanno colpito Attenzione Attenzione Compagno inviato nel kulag Morto Team magnetato Yes Grandissimo Grandissimo Ma io l'MP5 Da sotto Da sotto a sotto Non serve il cecchino Non serve il cecchino Eh sì È quello Eh capito Mi muovo di qua Oh Mi hanno crackato Da dove? E' nata partita Siamo qua sotto Giù c'è il 2002 All'entrata Fotto C'è il treno Che possiamo sfruttare Il treno Per passare Sì Andiamo Non c'è un veicolo qua? Eh no Anche a me Dio non c'è un veicolo Avanti lì c'è un po' la macchina Qui c'è un veicolo Posso guidare io? Sì Sì Eccomi Arrivo Vai 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 Rallentiamo Oh sì è partito uno sparo Da sotto Da dove? Non ho capito Verso di qua? Sì L'ho visto passare qua Ah eccoli Eccolo là Eccoli là E là Ok E non c'abbiamo il cecchino Si stanno Si stanno Stanno fightando Sì 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 O ne approfittiamo ora E scendiamo a polizia Per il momento sì Attenzione però da sopra Ci possono prendere Dove stanno? Non li vedo più Non li vedo C'è l'albero davanti Cazzarola No non li vedo più Ah no eccolo Uno è la terra Segnalo un bersaglio E uno lì Sì ok Sì ok Ok Sperando che non ci abbiano ancora visto E sperando che non ci sparino E sperando che La stazione di polizia sia libera Dopo dobbiamo fare attenzione Che non vengano da sopra Nella zona sicura Qua è aperto il negozio Noi veniamo in pace Più o meno Vediamo Dobbiamo controllare le scale da sopra Raga pure Raga me ne pingao due Mi muovo di qua Sì 16 metri Sono qua raga Sono qua Sono qua Ok Sono salendo Sono entrati Lo sanno che ci siamo Eccolo Eccolo L'avete uccisi Ok Ok Il terzo sta scendendo Sì perché ho dovuto Piastrarmi Sì raga Qua a sinistra No A terra Ok Perfetto Rianimiamolo Rianimiamolo Ci abbiamo i soldi Vai 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 Sì Arrivo subito Vai 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 Eh ho sbagliato io Sono entrato Troppo veloce Vai tranquillo Qua rivienite a prendere la tua roba E poi ce ne dobbiamo andare Sì Sì Forza Eh raga Quei erano quelli sopra Eh questi erano quelli di sopra Sì dobbiamo risalire Eh Va bene Di qua Di qua Di qua No no da sopra Mi sparano Mi hanno atterrato Da sopra Raga Da di qua Sì Da qua Da qua No da sopra le montagne Dovete fa copertura Se no c'è ancora A pushare Non ti fare uccide No è sceso È sceso Sta qua No Ah Bella Bella però dai 2 5 1 Bene 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 Grazie a tutti.